Mi spiace non possiamo fare un giro di domande ma se volete i nostri relatori saranno qui a disposizione per magari approfondire ulteriori elementi. Vi ringrazio molto, una foto farete poi con i nostri fotografi che sono già pronti, a questo punto invito la mia collega Simona Vantaggiato a salire sul palco per introdurre la terza tavola rotonda sul welfare aziendale. Grazie Alessia. Dunque questa terza tavola rotonda come potete leggere dal titolo è dedicata al welfare aziendale, ormai è un argomento di grande attualità. La nuova fontiera del welfare aziendale strategie, servizi e prodotti. Chiamo e invito a raggiungermi qui sul palco il dottor Fabio Orsi, responsabile ricerche di Innovation Team. Il dottor Ivano Bosisio, Head of Operations and Customer Excellence, Generali Wellion. Dottor Massimo Mischio, presidente di Cineas. Professor Claudio Cacciamani, docente Università di Parma. Benvenuti. Dunque faccio un breve cappello introduttivo ovviamente parlando un po' del welfare aziendale che è il tema di questa terza tavola della giornata di New Insurance Day. Il welfare aziendale ovviamente come voi sapete è in continua evoluzione, la normativa si evolve, l'approccio cambia e cambia anche la percezione da parte del dipendente nei confronti di questa particolare tipologia di servizi. Il welfare in particolar modo in Italia sta vivendo un momento di grande fervore, possiamo dire così, un grande sviluppo e poi naturalmente i miei relatori di questa tavola rotonda me lo confermeranno anche attraverso le loro indagini, le ricerche di mercato. Dunque il welfare aziendale ormai sta diventando uno dei pilastri fondamentali delle politiche di gestione delle risorse umane. Ecco perché è importante oggi fare anche un quadro della situazione, quindi vedere un po' qual è l'andamento del welfare in Italia, andare a vedere quali sono i benefit magari preferiti anche da parte dei lavoratori, se c'è uno scostamento tra i benefit maggiormente proposti da parte delle imprese e quelli invece desiderati da parte dei lavoratori. Andare a vedere anche quali sono i settori in Italia che maggiormente sono attivi da questo punto di vista, quindi fare un po' il punto della situazione. Io inizierei dal dottor Orsi, le chiedo, Innovation Team è una società che si occupa di ricerca, ricerca offre consulenza alle imprese, anche soprattutto dal punto di vista dei servizi, nel settore dei servizi. Ecco, in particolar modo dai dati che emergono dalle vostre ricerche, qual è il quadro attuale del welfare aziendale in Italia? Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Ovviamente non sono ne a Dallaglio, come c'è scritto. Dallaglio ha un culto della personalità abbastanza forte, se sapesse che ci sono io e sopra c'è scritto il suo nome ci rimarrebbe un po' male, poi glielo dico, sto scherzando ovviamente. Ma allora, io direi che la prima cosa di grande interesse per parlare di questo tema è che siamo a convegni assicurativi e parliamo di welfare aziendale. Tre, quattro anni fa in questo mondo si parlava sostanzialmente solo di employee benefit, ovvero di quei benefici che andavano oltre la remunerazione, che andavano oltre i contratti collettivi e che generalmente toccavano solamente i manager delle aziende e in più delle grandi aziende. In questi anni ci sono state delle evoluzioni molto forti. Dalle indagini, dalle ricerche che effettuiamo è emerso che le aziende che noi consideriamo attive, ovvero che hanno iniziative in almeno quattro ambiti di welfare aziendale, sono passate in tre anni dal 25% al 41%, quindi c'è stato un aumento molto rilevante. Da che cosa dipende? Dipende sicuramente da più fattori, sicuramente dai cambiamenti normativi di questi anni, i cambiamenti che hanno da un lato allargato il range delle possibili iniziative, andando oltre tutto il tema della previdenza integrativa e della sanità integrativa per andare a riguardare anche temi di assistenza, di servizio, di istruzione, di cultura e così via. Al fatto della possibilità di convertire i premi aziendali in welfare aziendale e sostanzialmente al fatto di mettere sullo stesso livello il welfare volontario con il welfare negoziale. Quindi sostanzialmente il trend di cambiamento è avviato e ha portato a questi risultati che consideriamo molto rilevanti. Dall'altro lato c'è sicuramente da sottolineare che il welfare aziendale è entrato nelle trattative tra lavoratori e imprese con un accento, con un ruolo sempre più rilevante. Ecco, io prima di lasciare la parola ai colleghi, qui vorrei sottolineare alcuni punti per cui noi riteniamo che il welfare aziendale sia effettivamente, e soprattutto in un convegno in cui parliamo di new insurance e parliamo di innovazione, sia un'innovazione sociale davvero rilevante non solo per il mercato ma per il Paese in generale. Innanzitutto perché è integrativo rispetto al welfare statale. Ora noi, soprattutto in questi mesi di discussione politica, abbiamo toccato parecchi temi. Uno dei temi, è innegabile degli ultimi anni, è quello del tentativo delle economie occidentali ed europee di mantenere, di rendere sostenibile a lungo termine il welfare statale. Non c'è dubbio che la presenza di un welfare aziendale in crescita possa consentire di integrare ulteriormente e di preservare la specificità delle società occidentali, in particolare delle società europee, anche andando in un momento di riduzione della spesa e di rifocalizzazione verso nuovi servizi. L'altro aspetto molto caro al business assicurativo è quello dell'integrazione rispetto al mondo di sanità e previdenza delle polizze collettive che tipicamente sono gestite dal mondo assicurativo e dai fondi rispetto alla sanità pubblica. Anche in questo ambito il welfare può favorire questo tema. Un altro aspetto che secondo noi è molto rilevante che questo deriva direttamente dalla voce delle aziende che intervistiamo è quello del miglioramento del clima aziendale, della produttività e della fidelizzazione dei dipendenti. Quindi sostanzialmente il welfare aziendale è riuscito in questi anni da un lato a preservare il welfare in generale integrando le forme statali, dall'altra a migliorare il clima aziendale, la produttività delle aziende e dall'altra anche a contribuire alla crescita del paese perché stiamo parlando di un'industria che vale parecchi miliardi. Quindi non c'è dubbio che in futuro sia assolutamente predominante e da tenere d'occhio sia a livello complessivo che a livello di compagnia. Un ultimo spunto è evidente che il welfare aziendale è molto più diffuso nelle aziende medio-grandi rispetto a quelle medio-piccole. Il tessuto imprenditoriale italiano è caratterizzato da tantissime aziende medio-piccole, anzi piccole, milioni di imprese sotto i 10 dipendenti ma anche sotto i 6 dipendenti. La grande sfida dei prossimi anni sarà quella, ed è una sfida che coinvolge molto anche le compagnie di assicurazione, di riuscire ad aggregare la domanda per andare a servire anche quel genere di imprese. Ringrazio, ha un po' anticipato anche le mie domande che farò sicuramente agli altri relatori. Io passerei al dottor Bosisio, al quale proprio a proposito di ricerca, di osservatorio, parliamo della ricerca di Welfare Index PMI, che è appunto un'iniziativa importante promossa da General Italia e giunta alla terza edizione. Allora, io visto che il dottor Orsi parlava proprio di dati, di ricerca, io le chiedo se conferma quello che ha detto il suo collega, quindi se c'è appunto questa crescita, questo trend. Qual è la finalità innanzitutto di questo progetto e poi qual è il parorama italiano? Ok, buongiorno a tutti. Innanzitutto faccio due parole di repilogo su cos'è il Welfare Index PMI, che è un'iniziativa che è arrivata ormai al terzo anno e che coglie insieme a Innovation Team, insieme a una serie di maggiori confederazioni, le maggiori associazioni di categorie in Italia, cerca di dare risposta alla domanda di qual è il Welfare e cos'è il Welfare per quello che è il tessuto sociale che dicevamo prima portante dell'Italia, cioè le piccole e medie imprese. Assolutamente le risposte che abbiamo sono coerenti con quello che abbiamo appena sentito, cioè aziende che continuano a investire nel Welfare, aziende che hanno sempre più bisogno di soluzioni per investire nel Welfare e soprattutto anche una serie di spunti che vengono dalle piccole e medie imprese e che poi possono essere portate e capitalizzate anche per imprese di grandi dimensioni, quindi un ottimo osservatorio. Diciamo che noi abbiamo diviso le aree di intervento del Welfare in questa ricerca in 12 aree, tra le aree che vediamo maggiormente crescere sono le aree quelle un po' più tradizionali del Welfare, che in realtà parliamo di Welfare adesso, ma lo dicevamo bene prima, con le assicurazioni facciamo Welfare da tanti anni, con la previdenza integrativa, la sanità integrativa, le polizze, l'eticia di assistenza. Quello che sta crescendo molto in questo momento è proprio la domanda e anche l'applicazione di soluzioni di Welfare in ambito sanitario e di assistenza. Vuoi da un lato per, lo dicevate anche nella tavola rotonda precedente, un po' l'arretramento su alcuni fronti del Welfare statale, vuoi per l'invecchiamento della popolazione, vuoi anche per una difficoltà magari anche delle persone e dei cittadini nel rapportarsi con quello che è il mondo del servizio sanitario nazionale, quindi qui si apre uno spazio anche per noi come compagnia assicurativa per cercare di fare qualcosa di differente. Ecco io volevo a proposito, quindi confermo questo trend ovviamente in crescita, questo l'abbiamo capito, soprattutto dal punto di vista sanitario come area, perché ho letto insomma le ricerche che voi fate e quindi riemerge appunto questa suddivisione in 12 categorie. E voi come affrontate questa crescente richiesta in Italia? In che modo vi state proponendo sul mercato? Il generale ha cercato di dare come al solito una risposta al più possibile completa e concreta a questo problema. Quindi da un lato noi vediamo una serie di aziende nel mercato italiano che si stanno focalizzando ad esempio sui flexible benefit, sui portali di flexible benefit. Noi crediamo che sia questa solo una parte dell'offerta di welfare, anzi se volete anche la meno nobile, forse la più strumentale a fare welfare. Nella mia accezione in priori flexible benefit per me è un mezzo di pagamento per l'welfare, non è nient'altro che quello. La realtà è che quello che invece come generali vorremmo fare è dare una risposta di welfare integrato all'azienda attraverso cosa? Due strumenti in particolare. Uno che è uno strumento che abbiamo da tantissimi anni, che sono le nostre polizze assicurative e sono veicolate tramite la nostra rete. Quindi l'aggiungere le PMI tramite la nostra rete di agenti ci permette di essere presenti sul territorio e di dare una risposta e un'assistenza concreta alla parte di welfare. Dall'altra abbiamo voluto dimostrare di credere in questo spazio competitivo proprio creando una società ad hoc che è Generali Whelion, che è nata a novembre dello scorso anno e che oltre a gestire tutta la parte meno sexy e assicurativa delle polizze employee benefit health di Generali Italia vuole anche cercare di innovare in questo settore e quindi dare in modo di offrire nuovi servizi legati o non legati alle polizze e fare in modo che le aziende abbiano appunto un interlocutore con cui parlare di welfare sotto tutti gli aspetti, con un approccio veramente consulenziale che porti magari alla sottoscrizione dei rischi assicurativi ma anche alla creazione di piani di welfare complessivi. Grazie per l'intervento. Io passerò al professor Claudio Cacciamani al quale chiedo ho due domande da porle. Una riguarda appunto come hanno anticipato i due relatori precedentemente il welfare da sempre, storicamente è sempre stato ad appannaggio delle grandi imprese mentre adesso proprio si sta aprendo alle piccole e medie imprese. Ecco cosa si può fare, chi lo può fare come si può agevolare sempre di più questo processo, l'entrata del welfare nelle piccole e medie imprese come si può stimolare un po' la domanda? Secondo me, innanzitutto grazie ai superstiti della sala, secondo me ci sono due aspetti molto molto importanti il primo è che soprattutto per le piccole e medie imprese, non parliamo delle micro imprese parliamo del tessuto italiano, si pone sempre più un problema di chi sono i key men cioè nel momento in cui ho il mio direttore di produzione, anche se sono l'azienda di 20 dipendenti se ho il mio direttore marketing, e quando dico il direttore marketing è come se parlassi del teletrasporto, ma è quello che conosce i miei principali clienti ecco, come lo fidelizzo? Gli basta la macchina, gli basta il telefonino, eccetera? Ecco in questo il welfare, almeno nelle mie esperienze di marcia a piede sta diventando un qualcosa che viene percepito guarda amico mio, che se tu te ne vai da qui a 5 anni, ti avevo fatto una cosa molto carina non è che te la prendi tutta, anzi forse non te la prendi per niente pochi sanno che le case di moda, la prima cosa che fanno per fidelizzare uno stilista che funziona è quella di fargli un piano welfare, però è uno yes no se te ne vai entro i 10 anni perdi tutto ecco, questo secondo me dovrebbe diventare anche per chi propone questi strumenti un qualcosa che ha una valenza anche organizzativa e non più solo finanziaria e assicurativa mi viene in mente, mutatis mutandis, il crowdfunding la raccolta di denaro dal pubblico, beh quello è uno strumento di marketing perché se io ti dico dammi 10 euro in cambio nel mio negozio e ti do il 10% di sconto ho creato fedeltà ecco, non è mai toccato forse la frontiera su cui ci si dovrebbe muovere affinché il vero imprenditore sia cosciente chi poi decide nella PMI è dire attenzione a uno strumento organizzativo di fidelizzazione e di marketing perché è vero che c'è disoccupazione ma è altrettanto vero che è un po' come il pollo di trilussa tutti noi mangiamo un pollo e una cipolla c'è chi mangia due polli, chi mangia due cipolle trovare anche persone valide, fidate, eccetera, da fidelizzare diventa molto difficile chiudo per ridare la parola attenzione, questo è tanto più vero quanto più nelle realtà più piccole confesso di essere profondamente legato alla mia regione origine le Marche le Marche è, come tutta l'Italia, una regione di distretti e se voi andate anche in città di 15-20 mila abitanti trovate le società di mutuo soccorso che magari hanno la sede vicino alla BCC locale allora se c'è la società di mutuo soccorso vuol dire che c'è una comunità fatta di piccoli imprenditori, di cittadini, eccetera che ha un bisogno che non è soddisfatto ecco, chi lo deve soddisfare? la compagnia? l'intermediario? eccetera non spetta a me dirlo ma c'è una domanda latente molto forte che in alcuni casi forse male non lo diciamo né a Covip né a Ivas è autogestita io passo la parola al dottor Mishu i sistemi di welfare possono diventare indispensabili all'interno delle piccole e medie imprese italiane? e quale spazio c'è per il settore assicurativo? allora in questi ultimi anni io mi sono trovato in una serie di situazioni in cui alcune imprese ho aiutato alcune imprese a entrare nel mondo dell'offerta di welfare e una delle società in cui Kinetic ha investito è una delle società che offre anche a una serie di PMI prodotti di welfare da puro distributore e quindi sono un portatore un po' e siccome ci sono andato anche personalmente in alcuni di questi incontri vi dicendo sono un po' portatore se mi permettete di un'esperienza un po' di terreno e cose di questo genere io trovo che quando si va in una piccola impresa in una media impresa si trova sempre allora io sono rimasto molto stupito per il fatto che alcuni rischi tu gli parli di cyber risk abbiamo sentito prima parlare di cyber risk gli parli di key man gli parli di welfare non si trova necessariamente una grande consapevolezza in testa un'impresa che aveva 80 persone quindi ma ha un fatturato molto importante del cui 90% all'estero quindi un'impresa abbastanza sofisticata gestita da una famiglia dove però la famiglia stessa non aveva una sensibilità molto forte soprattutto non aveva una conoscenza a quello che erano i flexible benefits quelli che erano i benefici di natura assicurativa a quello che poteva essere il welfare integrato allora noi abbiamo ci stiamo confrontando un mondo che evolve talmente velocemente che in qualche modo io ho la sensazione che la nostra ignoranza cresca giornalmente non tanto perché siamo più ignoranti di ieri ma quanto le cose da sapere sono sempre più vaste e ci sarebbe c'è molto bisogno di comunicazione c'è molto bisogno di parlarne delle cose purtroppo però ognuno di noi è occupato nelle proprie faccende e si finisce di certe cose di non parlarne abbastanza o comunque di non illustrarle abbastanza o comunque di non conoscerle fino in fondo perché la complessità cioè ricordarsi a memoria quali sono tutti gli ambiti gli asili in idola la palestra la forma su cui è possibile attivare dei flexible benefits oppure ricordarsi nel dettaglio come deve funzionare un certo tipo di offerta non è sempre molto molto semplice allora qual è il tema il tema è noi abbiamo uno sforzo di comunicazione molto importante da fare perché per le imprese soprattutto per la piccola media impresa come diceva il professor Cacciamani c'è una grandissima necessità in particolare in quei settori dove c'è una guerra dei talenti cioè dove c'è la tendenza di portare da una società magari media a delle società più grandi che hanno dei sistemi di welfare molto interessanti da una società media a una società più grande delle risorse particolari quindi se io sono una impresa familiare ho un mio collaboratore particolarmente in gamba e in qualche modo lui si trova confrontato non solo a un salario maggiore a una remunerazione maggiore presso altri ma anche a un sistema di benefici per la famiglia e per tutta la sua attività molto molto maggiore è facile che possa essere portato via nel mondo del software per esempio questo accade molto spesso è un settore diciamo abbastanza competitivo da questo punto è molto competitivo quindi bisogna dare identificare ci sono dei settori che sono particolarmente esposti alla competizione sul welfare e secondo me come diceva il professor Cacciamani è importante andare a capire come il welfare può diventare non solo un modo di guadagnare fiscalmente per l'impresa ma anche un modo per competere nel mercato dei talenti e delle risorse rare io continuerei ancora con lei le farei un'altra domanda riguardo appunto alla prevenzione come è possibile inserire le tematiche di prevenzione all'interno dei sistemi di welfare se è possibile ma allora in generale io vedo il tema della prevenzione e il tema del miglioramento di tutti i sistemi come un tema abbastanza centrale oggi per tutta l'attività assicurativa io credo che sia giusto dire i flexible benefits sono in fondo la parte più emersa ma quella meno importante perché i veri benefici sono i benefici sulla sanità sulla copertura dell'ETC o altri tipi di benefici che sono di natura assicurativa credo però che noi come mondo assicurativo abbiamo bisogno di diventare molto più verticali molto più a conoscenza di che cosa oggi è a disposizione vi faccio un esempio io ho partecipato e partecipo regolarmente a delle riunioni dove vengono presentate le start up già operative quindi non start up non idee ma start up che lavorano già io ho visto delle start up che sono in grado tramite l'artificio almeno dicono loro tramite l'intelligenza artificiale di avere il 91% di capacità di riconoscere dai sintomi che uno dice telefonicamente o scrive sul computer qual è la malattia di cui io potrei soffrire dicono essi affermano che il 91% loro hanno il 91% di ritorno i medici hanno normalmente il 36% di successo nel riconoscimento dei sintomi legati a una malattia ho visto sempre delle persone che hanno lavorato a Stanford per oltre 10 anni che hanno creato dei sistemi di diagnosi delle patologie ortopediche diciamo legate alle ossa ai movimenti e via dicendo che sono che permettono di migliorare di molto il percorso di cura nel momento in cui tu hai bisogno di capire hai avuto un incidente e devi vedere come fare le cose oppure da una società che ha sviluppato dei test del DNA in cui è in grado di dirti quali sono i cibi che ti fanno a livello personalizzato che ti fanno ingrassare o non ti fanno ingrassare che non sono uguali per tutti e se lo sport ti fa bene o ti fa male allora perché faccio questi esempi per dire che si sta sviluppando talmente tante cose e per me molti di queste cose devono essere integrate nel servizio assicurativo se io mi presento e dico io ti copro per la salute ho sicuramente un servizio molto valido ma non sempre riesco a bucare presso il cliente se io ti dico io sono in grado come ha fatto un'increpresa assicurativa nel nel sud-est asiatico io sono in grado di farti un'analisi del DNA e spiegarti che se i grassi a te non ti fanno particolarmente ingrassare ma i carboidrati ti fanno ingrassare molto e quindi devi piuttosto eliminare i carboidrati che i grassi sto offrendo anche una forma di servizio nuova un po' originale e che sicuramente crea interesse non so come dire presso la clientela loro hanno avuto un grande successo di pubblico quindi quando dico che bisogna lavorare sulla prevenzione dico che bisogna andare in verticale per conoscere di più cosa esiste e provare a integrare una parte di quelle che sono i grandi servizi che oggi è possibile offrire alla clientela all'interno della nostra offerta la ringrazio io volevo porre ai restanti relatori una domanda un po' più generica innovazione e servizi alle imprese non abbiamo parlato molto di innovazione quindi magari vi chiedo un veloce giro quali possono essere gli spunti alla luce di tutto quello che abbiamo detto per degli spunti nuovi per il settore del welfare ve lo chiedo faccio questa domanda unica a tutti i relatori ma allora ovviamente è una domanda che si presterebbe a una risposta lunghissima io mi metterei un attimo dal punto di vista delle compagnie di assicurazione che vogliono sviluppare questo mercato e ci sono alcune domande alcuni nodi chiave che vanno sciolti il primo è come raggiungere le aziende per aiutarle nel welfare aziendale e c'è quindi un tema distributivo ovviamente le compagnie di assicurazione le banche le stesse poste sono in grado proprio perché hanno una rete capillare vasta e presente sul territorio di arrivarci ma servono delle competenze importanti sono reti tutte generaliste sostanzialmente servono delle competenze importanti per arrivarci quindi servono sicuramente delle operazioni verticali sulle reti per poter avere quelle capacità di consulenza specialistiche non solo fiscali che permettono di arrivarci l'altro tema è che cosa andare a proporre ovviamente il mondo assicurativo è un mondo molto caratterizzato dalla logica di prodotto lo sappiamo le polizze malattia le polizze i fondi previdenziali integrativi e così via il welfare aziendale ha come aspetto rilevante quello di supportare non solo queste esigenze che pure sono primarie ma tutta una serie di nuovi bisogni che riguardano il lavoratore nella propria vita pensiamo all'assistenza degli anziani dei genitori di chi lavora nell'azienda c'è tutto un mondo da gestire pensiamo alla conciliazione vita lavoro è un altro degli aspetti molto rilevanti che emergono pensiamo alla mobilità sociale e quindi all'istruzione per i giovani alla possibilità di crescita e fare mobilità sociale è chiaro che questo tipo di proposta di soluzione non deriva da prodotti ma deriva da servizi e deriva in particolare dalla capacità non di inventarsi probabilmente dei servizi nuovi ma di aggregare tutti quei servizi che sono presenti sul territorio nei piccoli comuni eccetera ma che ancora risultano parecchio ostici da gestire e da mettere in comunicazione tra azienda lavoratore e sono del tutto distanti ad oggi dalle compagnie d'assicurazione quindi probabilmente una delle vie di innovazione sta proprio nel fatto di sicuramente focalizzare meglio la distribuzione su questo tema e avere una proposizione verso questa opportunità molto più legata al servizio che vede il servizio non come integrativo accessorio al prodotto ma come particolarmente rilevante e il tema chiave è assolutamente aggregare cioè quello del welfare è un ecosistema molto complesso le compagnie possono prendere in mano le redini per aggregare i diversi protagonisti di questo settore la ringrazio quindi ritorno ancora al tema della verticalizzazione dell'integrazione quindi sempre siamo questi sono i punti nodali la stessa domanda al dottor Bosisio quindi innovazione sviluppo servizi alle imprese welfare per il futuro cosa si potrebbe fare diciamo cosa già stiamo facendo così andiamo su un paio di magari esempi concreti il primo è ritornato più volte è quello di passare un po' dal prodotto assicurativo vero e proprio a un prodotto assicurativo che sia un servizio assicurativo quindi di cui la parte assicurativa di copertura di rischio sia appunto una parte dell'offerta che diamo e in questo stiamo cominciando a lavorare anche noi vedendo molte start up abbiamo fatto due programmi di accelerazione lo scorso anno proprio come generali Wellion facendoci anche aiutare da chi questo mondo un po' lo vive un po' quotidianamente e stiamo cercando di trovare soluzioni che si possano integrare all'interno della polizza sotto due aspetti uno un po' più classico di riduzione della loss per noi assicuratori l'altro anche quello di andare a cogliere persone che solitamente non assicuriamo noi ricordiamoci che abbiamo tutta la platea al di là del che magari non chiamiamo welfare perché non beneficia dei vantaggi fiscali ad oggi però della parte di polizza e retail su cui abbiamo una serie di esclusioni solitamente per cui molte persone non le assicuriamo persone anziane persone con patologie croniche quello è un altro ambito su cui anche andando verso soluzioni innovative possiamo riuscire a coprire e a dare servizio ulteriore a queste persone il secondo aspetto mi raggancio a quello che diceva prima Innovation Team è sulla parte dell'integrazione dei servizi noi crediamo molto che essere capofila orchestratore come si dice oggi di sistemi o di un ecosistema di servizi sia un ruolo che noi come generale come generale William possiamo giocare ad esempio questo vale magari non per le piccolissime imprese ma per le medie grandi imprese una cosa su cui stiamo puntando è cercare sia per conciliare meglio il rapporto vita lavoro sia per dare un accesso più veloce alle cure alla prevenzione alle persone all'interno dell'azienda di portare i percorsi di cura all'interno dell'azienda quindi se io non ti obbligo ad uscire dall'azienda per fare percorsi di prevenzione o per curarti ho una redemption un engagement molto più alto da parte del dipendente non ti obbligo a prendere ora di permesso per fare degli esami ti do dei servizi all'interno dell'azienda che ti consentono di lavorare magari anche sfruttando la tecnologia sempre come mezzo e non come fine quindi con la telemedicina e andando sempre a fare leva su quelli che sono poi le nostre competenze core quindi un network sanitario forte una competenza forte di quello che abbiamo dietro e che possa però passare come innovazione verso chi magari non ci conosce da questo servizio più per scontato la ringrazio professore dal punto di vista suo più accademico diciamo così più accademico secondo me qui si pongono tre temi scusatemi sempre per un po' di pragmatismo la differenza essenziale in economia aziendale e marketing è tra bene e prodotto il bene è il bene in sé il prodotto è prodotto e servizio umile consiglio alle compagnie rifuggire dal dire siamo bravi nel vita facciamo welfare parlo da fruitore sentire il call center che mi risponde in un italiano stentato che mi fa mandare tre fax con 50 nel 2018 non faccio il nome della compagnia beh come utente del welfare non sono contento non solo ma se lavorassi alla telecom dove c'è l'ufficio welfare è un conto se sono un piccolo medio imprenditore che ho portato via come dicevamo come i calciatori a Milanello il capo alla produzione questo mi perde tempo a mandare 20 fax invece di trovarmi un cliente sono ancora più scontento quindi secondo me questo aspetto della concretezza del servizio va messa assolutamente a posto ma non parlo solo Claudio Cacciani parlo tanto quindi questo è un prodotto non è un bene e non va gestito con la stessa logica delle polizze vita assolutamente è un terreno nominato dove in proporzione ci si fa molto più male se si fa male poco male in senso di reputazione rispetto al resto la seconda questione è che questo è un prodotto che detto francamente noi veniamo da un ictus finanziario cioè dire la crisi è stata fortissima che è stato il 29 in Banca d'Italia il governatore ha detto che è stata la crisi finanziaria peggiore peggio di una guerra mondiale che vuol dire questo vuol dire che questo non implica solo un aspetto di benefit ma anche di finanziabilità e vengo alla microimpresa al piccolo imprenditore perché se trovo anche meccanismi di abbinamento parlo per le piccole imprese tale per cui viene finanziato viene incentivato allora diventa una diffusione su larga scala lungi da me pensare che il governo non pensa adesso alla polizza catastrofare terremoto ma sapere che la sanità pubblica viene meno stressata in cambio di incentivi fiscali per questi piani molto più poderosi gioverebbe a tutti ma questa è un'azione di lobby che non spetta a me detto molto francamente la terza cosa e chiudo è attenzione attenzione perché qui lo sforzo corale di tutti deve essere poderoso mi è capitato di vedere parlo qui parliamo di aziende pochissimi broker che si stanno attrezzando su un segmento di chiantela di questo genere piccole e medie imprese e sarebbe ripeto del tutto errato replicare la logica del wealth management di Enel a chi fa calze a rete nel comparto del mantovano è sbagliato cosa si può fare si può fare ancora molto allora servirebbe una catena del valore servirebbe una catena del valore innanzitutto finanziario sono poche le compagnie che stanno investendo ad esempio le loro riserve in cliniche piuttosto che in centri di riabilitazione in start up per poter aiutare eccetera 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 ma giova rendono serve un rapporto nuovo con gli intermediari chi è che distribuisce questo chi è che è in grado serve un rapporto nuovo a stella con una serie di fornitori che non sono quelli abitualmente con i quali ho dialogato quindi non stiamo parlando della convenzione con i carrozzieri abbiamo in mano la vita delle persone il che è un qualcosa dove ripeto ci si fa molto male la quarta è far capire comunicare innanzitutto ai cittadini questo e non lo sta facendo nessuno cioè noi stiamo ancora comunicando la pensione integrativa terzo quarto quinto pilastro il motto dovrebbe essere quasi il motto yiddish molto bello che dice invecchiare è brutto ma l'alternativa è peggio ringrazio un applauso dunque io vi ringrazio ringrazio tutti voi per essere stati qui con noi tutta questa giornata fatta di trentense tavole potete rivedere gli interventi dei nostri relatori delle altre tavole anche sulle fonti tv quindi www.lefonti.tv e su le fonti youtube quindi il nostro canale youtube dove è possibile rivedere tutti i video dell'interessante giornata di oggi grazie ancora